Il sindaco Massimo Cariello ha convocato per giovedì 6 settembre alle ore 19 a Palazzo di Città in via Ripa una riunione per discutere delle problematiche legate alla sicurezza nel centro storico dopo le risse verificatesi nei giorni scorsi. L'ultima in ordine di tempo è accaduta giovedì sera, quando alcuni nordafricani sono entrati in contatto dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Una delle persone coinvolte è stata trasportata presso l'ospedale di Eboli per lesioni da taglio alla testa e al volto. Ad intervenire sulla questione anche il circolo locale della Lega. I residenti affermano non ne possono più.